Non vi sono obiezione, la pulizia dei lavori dell'Istituto Diana sarà assicurata anche mediante attivazione di impianti auto-evisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta da URTV e Camera Deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Consigliere Roberto Allesse, accompagnato dal Consigliere Sergio Gallo, direttore della Direzione Antifrode, dal Dottor Leonardo Di Stefano, direttore dell'Ufficio Affari Giuridici e Rapporti Istituzionali e dal Dottor Rocco Antonio Burdo, Funzionale della Direzione Antifrode, che saluto e ringrazio la presenza. Ricordo che la salute odierna si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta la partecipazione del remoto dei componenti della Commissione. Avverto i nostri ospiti che della presente audizione sarà redatto il resoconto scenografico e che se lo riterranno opportuno, consentendo alla Commissione i lavori potranno proseguire l'Istituto Segreta. Ricordo che in tal caso, per la parte istituta sottoposta al regime di segretezza, saranno sospesi tutti i collegamenti del remoto che saranno tempestivamente riattivati alla ripresa della salute libera. L'audizione odierna rientra nell'ambito delle materie oggetto di inchiesta e senso di legge istitutiva numero 53 del 10 maggio 2023, con particolare riguardo al filone di approfondimento relativo alla produzione e contraffazione di prodotti agroalimentari e agroindustriali, su cui la Commissione ha inteso avviare una specifica attività di indagine, secondo quanto convenuto, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza Integrata della Presidente dei Gruppi del 28 febbraio scorso. Ricordo che la Commissione è chiamata a svolgere indagini atti a far luce sull'attività lecita e connessa al ciclo dei rifiuti, anche con riguardo alla verifica di comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica, ovvero da pari soggetti pubblici o privati operanti della gestione e del trattamento del recupero dei rifiuti. La Commissione ha anche il compito di individuare eventuali connessioni tra tali comportamenti illeciti ed altre attività economiche, un particolare riguardo al traffico dei rifiuti sia all'interno dei territori comunali e provinciali, sia tra le diverse regioni, sia con riguardo ai flussi al di fuori del contesto nazionale. In particolare, con riguardo ai temi che saranno oggetto dell'audizione, ricordo che sì che, ai sensi della sopraccettata legge istitutiva, la Commissione ha ampliato il novero delle materie già oggetto di inchiesta nel presente delle legislature, nonché dei relativi fili di approfondimento, includendo anche le attività illecite e commesse nel settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di chemietà organizzate e perpetrate, mediante sofisticazione e contraffazione di prodotti agroalimentari, di etichettatura e di marchi di tutela, compresi loro traffico trasfrontaliero. A tal fine, la Commissione mira ad acquisire elementi di conoscenza utili anche ai fini dell'aggiornamento e del potenziamento dell'attuale normativa esistente in materia di reati agroalimentari, a tutela della sudumana, del lavoro e dell'ambiente, nonché del contrasto del traffico illesso di prodotti con marchi o made in Italy, contraffatti o alterati. In tal senso, la Commissione è interessata a conoscere quali attività di controllo, prevenzione e monitoraggio siano posti in essere o siano state eventualmente realizzate dall'Agenzia delle Doganze e dei Monopoli, presso i porti del Paese o sulle frontiere, con finalità di contrasto rispetto a tali attività illegali. Cedo dunque la parola al Direttore Alesse per lo svolgimento di una relazione introduttiva al termine della quale i colleghi parlamentari potranno rivolgere eventuali domande o richieste di chiarimento. Prego. Onorevoli deputati, l'Agenzia delle Doganze e Monopoli è lieta di poter fornire il proprio contributo tecnico in sede di audizione odierna convocata da Codesta Commissione nell'ambito del filone d'inchiesta relativo alla produzione e alla contraffazione di prodotti agroalimentari e agroindustriali. Mi concentrerò pertanto in particolare sulle iniziative intraprese a tutela della sicurezza alimentare e del Made in Italy e sulle azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni illegali inerenti alla produzione e alla contraffazione dei prodotti agroalimentari. Per cogliere al meglio lo sforzo profuso dall'Agenzia in tale ambito, occorre considerare che le attività poste in essere si inseriscono in una più ampia gamma di funzioni attribuite all'Agenzia che a seguito della incorporazione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvenuta nel 2012, è diventata questa agenzia una grande holding pubblica titolare di molteplici e differenziate attribuzioni di rilevanza nazionale, unionale e internazionale. Non solo nel settore doganale, dei prodotti energetici e delle bevande alcoliche, ma anche del gioco pubblico e dei prodotti da fumo. Con specifico riferimento all'ambito doganale, l'Agenzia, oltre a tutelare l'interesse erariale, ha il compio di favorire la crescita economica dell'Italia, contemperando l'esigenza di facilitare la circolazione delle merci nei discambi internazionali con la necessità di salvaguardare la sicurezza e la salute dei cittadini. Tale missione è favorita da un'ampia autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, di cui l'amministrazione doganale gode in quanto ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica. Non di meno gli obiettivi strategici concordati annualmente con il Ministero Vigilante, vale a dire il MEF, impongono di differenziare la risposta istituzionale rivolgendola verso fenomeni complessi e molteplici, quali il contrabbando, la contraffazione, il riciclaggio, il commercio illegale di specie protette, il traffico illecito di armi, di stupefacenti e loro precursori di sostanze psicotrope e di farmaci, di merci che virano i diritti di proprietà intellettuale. Pur a fronte di una devoluzione di compiti dallo spettro così ampio, l'attenzione dedicata alle materie di interesse della Commissione è stata nel tempo sempre maggiore. Con riguardo alla intensificarsi della globalizzazione degli scambi commerciali e al loro correlato rilievo strategico nell'attuale contesto storico, economico e internazionale. Si tratta di settori in cui si può apprezzare con singolare evidenza anche la crescente importanza delle competenze extratributari dell'Agenzia che si aggiungono a quelle più tradizionali di salvaguardia dell'interesse erariale. Tale premessa intende mettere in evidenza come la tutela del Made in Italy e il contrasto agli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti o inerenti alla materia ambientale e agroalimentare possano trovare attuazione in un complesso sistema integrato che chiama in causa anche le competenze di altre autorità amministrative unionali e nazionali e che trova tuttavia nell'Agenzia, soprattutto all'interno degli spazi doganali, l'amministrazione titolare di precipue funzioni di pulizia tributaria e giudiziaria. In particolare l'Agenzia dispone del potere di sottoporre a controllo i mezzi di trasporto e le spedizioni, nonché le persone che si trovano negli spazi doganali o che entrino o che escano dal confine dello Stato. In tale attività l'Agenzia si avvale di modelli predittivi fondati su un sistema di intelligence che esamina costantemente i flussi commerciali a rischio, in transito nei porti, aeroporti e valiche di frontiera, mediante l'attivazione e la gestione di banche dati che, tramite l'elaborazione preliminare di specifici profili di rischio, consentono di orientare la operatività dei competenti uffici territoriali. Centrale è infatti il sistema di analisi dei rischi che, attraverso il circuito doganali di controllo, consente una vigilanza mirata e costante sullo scambio delle merci in ingresso e in uscita dal territorio dell'Italia e dell'Unione Europea. Ed è fondamentale questo sistema di analisi dei rischi per il contrasto dei fenomeni illeciti di particolari interesse per codista commissione. Le norme dell'Unione Europea, in primis il Codice doganale dell'Unione e quelle nazionali, declinano forme e contenuti dell'attività di vigilanza sulle merci italiane, unionali ed extraunionali, consentendo la loro sottoposizione a controlli fisici sin dalla loro introduzione di spazi doganali dell'Unione, sebbene il controllo, a determinate condizioni, possa addirittura collocarsi in un momento antecedente, anche grazie alla collaborazione di altre autorità nazionali ed estere. A questo riguardo va anche segnalato che i menzionati compiti di vigilanza e controllo sono spesso attribuiti all'Agenzia anche nei casi in cui l'attività di regolamentazione è sanzionatoria e invece rimessa da altre amministrazioni dello Stato. Tanto premesso, Signor Presidente, Onorevole Senatore e Deputati, vorrei mettere a disposizione per le attività di competenza di codesta commissione di inchiesta un documento illustrativo di alcuni risultati conseguiti dall'Agenzia nel periodo gennaio-dicembre 2023 con particolare riferimento 1 al settore ambientale, 2 alle frodi nel settore agroalimentare, 3 all'analisi del fenomeno della contraffazione, 4 all'attività di certificazione dei laboratori chimici dell'Agenzia nel settore agroalimentare, 5 alle operazioni doganali congiunte con altre autorità. Nel demandare al contributo scritto già trasmesso alla segreteria della commissione per gli aspetti di dettaglio, mi soffermo brevemente su alcuni passaggi salienti, ritenuti di particolare rilievo citando solo alcuni dei valori quantitativi emblematici dei fenomeni analizzati. Con riferimento al settore ambientale, nel 2023, anno di insediamento degli attuali organi di governance, particolare rilievo è stato posto all'accertamento e alla repressione delle violazioni in materia di rifiuti, cascami e avanzi industriali. L'analisi dei dati relativa ai sequestri di rifiuti effettuati dall'Agenzia al momento dell'esportazione, nel 2023, evidenzia rispetto al 2022 un aumento del numero dei pezzi sequestrati, 390% in più ed è relativo al loro stimato 57% in più, a fronte di una diminuzione del peso complessivo della merce sequestrata. Tale risultato è ritenuto riconducibile a un affinamento dei parametri di rischi utilizzati per orientare i controlli fisici verso operazioni doganali a maggiore tasso di positività e connotati da particolare rilevanza economico-finanziaria. Con riguardo alle tipologie di rifiuti, negli ultimi anni si è registrato un significativo calo di sequestri di materiale plastico e di metalli e, per converso, un netto incremento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per quanto riguarda la destinazione di tale tipologia di merci, la quasi totalità dei sequestri, circa il 95% del totale, ha riguardato operazioni di esportazione, con la precisazione che le attività illecite si dirigono verso rotte commerciali che mutano sia in base alla categoria merciologica sia in base al parametro temporale. In particolare, i sequestri di rifiuti inclusi nella cosiddetta categoria altro, che include carta e cartone, rottami di metalli, cascami e avanzi di ghisa di ferro o di acciaio, masserizie, pneumatici usati, erano destinati al Pakistan e a diversi paesi africani, mentre i sequestri di veicoli, motori e loro parti, nonché di ciclomotori, erano principalmente destinate ai paesi africani e agli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, sono diminuite notevolmente le esportazioni di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche verso i paesi che erano risultati rilevanti negli anni precedenti, Thailandia, Singapore e Turchia. I maggiori quantitativi sequestrati nel 2023, infatti, sono risultati destinati al Pakistan, al Giappone e a seguire a diversi paesi del continente africano. Fornisco anche un dato comparativo tra l'Italia e la media dell'Unione Europea riguardante le esportazioni di cascami ed avanzi. Le analisi sui dati del 2023 relative alle sole esportazioni italiane evidenziano rispetto al 2022 un incremento del 37,7% in più rispetto alla media europea che si attesta invece su un incremento del 13,9% in più. La maggior parte delle esportazioni italiane continua a riguardare i cascami di carta o cartone in forte crescita nell'ultimo anno e i cascami di avanzi di ghisa, ferro e acciaio. Queste due voci, considerate congiuntamente rappresentano nel 2023 oltre l'80% del volume totale delle esportazioni di cascami di avanzi dell'Italia. Nel settore invece agroalimentare, che al pare di quello tessile caratterizza con emblematica valenza identitaria l'immagine del nostro paese, le attività svolte dall'Agenzia di controllo e di contrasto alle violazioni, mirano da un lato a sostenere e tutelare il mercato e i flussi leciti e dall'altro a prevenire i pericoli che possono derivare dalla commercializzazione di prodotti a rischio per la salute e la sicurezza dei cittadini. I circuiti dell'agropirateria sono infatti estesi, ben articolati e diffusi dentro e fuori i confini nazionali. Particolare attenzione è quindi posta la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e del Medi in Italy per evitare che contraffazione, adulterazione e sofisticazione dei prodotti agroalimentari italiani arrechino danno al valore della qualità che caratterizza di per sé il settore alimentare del nostro paese. L'Agenzia inoltre svolge controlli all'importazione anche con riferimento al cosiddetto fenomeno dell'Italian Sounding che ha diversa natura giuridica rispetto alla contraffazione pur essendone in qualche misura complementare. Questo fenomeno riguarda come è noto la produzione e la commercializzazione di beni, in particolare del settore agroalimentare, che richiamano la italianità e la genuità del prodotto nostrano tramite simboli, immagini, luoghi nazionali con caratteristiche e modalità di confezionamento similari a quelli della produzione italiana. Il citato fenomeno ha assunto grande importanza proprio in relazione ai prodotti agroalimentari che, tramite l'uso improprio di nomi, slogan, colori e disegni, evocano le principali caratteristiche del Medi in Italy al fine di raggirare l'acquirente relativamente alla loro provenienza. In tale ambito, la quasi totalità delle comunicazioni di notizie di reato relative al settore agroalimentare presenti nella banca dati antifrode dell'Agenzia è collegata al comparto oleario e, in particolare, all'olio vegetale dichiarato come extravergine di oliva, ma accertato e riclassificato come semplice olio vergine di oliva, a seguito di analisi chimiche e organolettiche effettuate dai laboratori chimici dell'Agenzia tramite un apposito panel test. Nel corso del 2023 sono stati effettuati controlli su oltre 2.000 dichiarazioni doganali, pari a più di 13.000 tonnellate e sono state accertate violazioni su 210 tonnellate di olio e 90.000 unità di prodotto, bottiglie, lattine, ecc. Nella maggior parte dei casi si trattava di violazioni riconducibili a reate di frode in commercio e di falso ideologico. Il 67% delle violazioni è stato riscontrato all'atto dell'esportazione, il che testimonia il costante impegno che l'Agenzia rivolge al contrasto degli abusi nell'utilizzo delle medie in Italy relativamente a prodotti destinati al mercato estero. Oltre alle quotidiane attività di controllo delle spedizioni e di collaborazione e coordinamento istituzionale svolte unitamente alle forze di polizia e alle altre amministrazioni pubbliche competenti, l'Agenzia è da anni promotrice di memorandum di intesa con enti e associazioni di categoria titolari dei diritti di proprietà intellettuale che hanno consentito un fruttuoso interscambio informativo finalizzato a rafforzare i controlli e a incrementare la cognizione dei meccanismi sottostante agli illeciti e a realizzare azioni sinergiche con i stakeholders. Da ultimo vorrei altresì segnalare che in caso di confisca di prodotti alimentari idoni al consumo umano o animale non pericolosi e dannosi per la salute pubblica, l'Agenzia acquisito in nulla osta dell'autorità giudiziaria ne dispone l'accessione gratuita a enti pubblici o a enti privati costituiti per il perseguimento senza scopro di lucro di finalità civiche e solidaristiche. Con specifico riferimento alla contraffazione come stato anticipato le attività svolte dall'Agenzia mirano non solo a tutelare il mercato e i flussi leciti ma anche a prevenire i pericoli che possono derivare dalla commercializzazione di merce che viola un marchio, un'indicazione geografica, un diritto d'autore, un disegno o un modello. Il prodotto contraffatto è sovente non sicuro, ossia è dannoso e sotto il profilo fiscale è sottofatturato con conseguente frode sul valore relativo danno erariale. L'Agenzia esercita attraverso il costante monitoraggio dei traffici illeciti una rilevante funzione securitaria finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni fraudolenti, in particolare per quelli che più incidono sulla regolarità degli scambi commerciali e sulla salute e sicurezza dei cittadini. Le categorie merceologiche maggiormente interessate in relazione al numero di pezzi sequestrati sono state quelle dei giocattoli, il 56% totale dei sequestri e a seguire quelle dei prodotti alimentari e delle bevande, dell'abbigliamento e degli accessori. Per quanto riguarda invece i cosiddetti beni immateriali, la normativa dell'Unione Europea disciplina anche la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, regolamentando in particolare l'intervento delle autorità doganali dei Paesi membri nel caso in cui i beni contraffatti incidono su tali posizioni giuridiche soggettive. Nell'ambito dell'attività di controllo e certificazione dei prodotti agroalimentari assume inoltre particolare rilievo la funzione assolta dai laboratori chimici dell'Agenzia dislocati sul territorio nazionale provvisti anche di postazioni mobili. I 16 laboratori chimici consentono di effettuare indispensabili analisi chimiche e merceologiche del materiale sottoposto al controllo documentale e fisico delle merci o dei relativi campioni prelevati durante l'attività di verifica. Le procedure e le attività dei laboratori sono tutte conformi agli standard internazionali di qualità. I laboratori infatti sono tutti accreditati presso Accredia come laboratorio multisito. L'accreditamento attesta la competenza tecnica, l'indipendenza e l'imparzialità delle attività dei laboratori in conformità ai requisiti previsti dalla norma tecnica Unicea Unicei N. ISO 17025 del 2018. I laboratori svolgono un ruolo di primo piano nell'attività di controllo e certificazione dei prodotti agroalimentari secondo le specializzazioni acquisite nelle singole sedi territoriali e sono stati autorizzati dal Ministero dell'Agricoltura, della Sommunità Alimentare e delle Foreste al rilascio dei certificati di analisi ufficiali sia nel settore oleicolo che in quello vitivinicolo. Nell'ambito della convenzione tra l'Agenzia e il predetto Ministero e il MASA fa effetto nei laboratori inoltre le analisi chimiche dei residui di fitosanitari e di OGM in qualità di autorità di controllo competente per il settore biologico. Guardando al futuro dell'Agenzia, la sfida principale è quella di un pieno avvalimento delle potenzialità rese disponibili dall'intelligenza artificiale che ha portato significativi progressi in vari settori, inclusa l'industria agroalimentare, offrendo nuove opportunità per migliorare l'efficienza, la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari e dell'intera filiera agroalimentare. Per quanto di competenza dell'Agenzia, l'intelligenza artificiale può svolgere un ruolo fondamentale nella tutela dei prodotti alimentari importati in Italia, ovvero che passano la frontiera italiana per entrare nell'Unione Europea. Il potenziale delle applicazioni dell'intelligenza artificiale per garantire la tutela dei prodotti agroalimentari destinati al mercato italiano è ampio e variegato e l'Agenzia al momento intende realizzare uno studio volto all'automazione dei processi informativi dell'Agenzia. Lo studio intende tra l'altro perseguire l'attuazione di metodiche di analisi da parte dei laboratori chimici dell'Agenzia più veloci, così da facilitare la circolazione delle merci negli scambi internazionali e relativi controlli doganali, agevolando gli operatori anche del settore agroalimentare e allo stesso tempo per tutelare i consumatori italiani ed europei. Come prima applicazione concreta, l'Agenzia sta analizzando i dati sui campioni di merce inviati all'analisi dei laboratori per sviluppare un algoritmo avanzato e intelligente in grado di indirizzare, previo vaglio umano, i campioni di merce ai laboratori territoriali dell'Agenzia in maniera efficace e tempestiva, in base alle necessità, alle specializzazioni e alle professionalità disponibili nelle singole articolazioni territoriali. In una prospettiva più ampia, l'impiego dell'intelligenza artificiale nell'agroalimentare potrebbe svolgere un ruolo cruciale nella tutela dei prodotti alimentari che varcano la frontiera italiana. Nell'import, attraverso l'identificazione di prodotti contraffatti o di scarsa qualità, il monitoraggio della sicurezza alimentare e la verifica e etichettatura, l'intelligenza artificiale potrebbe contribuire a garantire la sicurezza dei consumatori italiani e la qualità dei prodotti agroalimentari. Tuttavia si ritiene fondamentale sviluppare politiche e regolamentazioni adeguate per garantire un utilizzo responsabile e sostenibile dell'intelligenza artificiale, bilanciando la tutela dei consumatori con la privacy dei dati e l'equità nell'accesso alle tecnologie. Implementare soluzioni basate sull'intelligenza artificiale e l'agroalimentare italiano può contribuire a rafforzare la fiducia dei consumatori e ad alimentare una filiera agroalimentare sicura e di qualità. Da ultimo, in considerazione della competenza, della rilevanza e dell'autorità rivestita da Codesta Commissione, l'Agenzia accoglie l'occasione dell'odierna audizione per manifestare la propria assoluta disponibilità a fornire, anche tramite il proprio personale di Polizia Giudiziaria, la massima collaborazione istituzionale, nell'ottica di favorire un eventuale scambio di dati, informazioni e best practice, al fine di rafforzare le rispettive capacità di contrasto e fornire il consueto supporto nelle materie di competenza dell'Agenzia. Signor Presidente, Onorevoli Senatori, Onorevoli Deputati, confido che l'esposizione, pur sintetica, abbia potuto fornire iniziali spunti di approfondimento dei fenomeni considerati, fermo restando che i responsabili delle competenti unità organizzative dell'Agenzia, a partire dal consigliere Sergio Gallo, che siede alla mia destra, direttore centrale della direzione antifrode, sono sin da ora a disposizione della Commissione parlamentare di inchiesta per eventuali domande di approfondimento. Grazie. Grazie. Lascio la parola ai colleghi deputati e senatori per eventuali domande. Visto che io ho un paio di domande, poi dopo non so qual è la formula, perché immagino che tanti vogliono leggerci poi la relazione per poi poter fare domande anche in un secondo momento, poi magari abbiamo un'interazione. La prima è, nonostante il numero di controlli e soprattutto soggetti deputati a svolgere, quindi agenzie del organe, NAS, guardi finanze, il mercato italiano e i prodotti elementari italiani risultano essere quelli maggiormente soggetti a contraffazioni e alterazioni di tutti i generi, con i rischi conseguenti che lei ha anche poi evidenziato. A tal proposito ho chiesto che cosa andrebbe migliorato, cosa va implementato per contrastare in modo ancora più incisivo per ridurre la prolifrazione di commercializzazione dei prodotti contraffatti, poi l'accuratezza dei controlli svolti alle dogane italiane sui prodotti sdoganati, in Italia è equivalente ai controlli svolti in altri paesi dell'Unione Europea, questa è la domanda, e in particolare se c'è il rischio di avere merci sdoganate nel porto di Rotterdam o di Hamburgo con controlli meno accurati e che poi nel rispetto del Trattato di Schengen entrano e vengono commercializzati in Italia come merci europee, questo comporterebbe un'enorme perda di competitività per i nostri prodotti italiani, quindi come è possibile contenere questo fenomeno. Poi avevo altre domande che avevamo preparato che riguardavano più alcuni prodotti o comunque alcune qualità del prodotto e queste magari sono più tecniche, le posso anche lasciare e poi magari le guardiamo in un secondo momento. Buonasera a tutti, rispondo subito a entrambe le domande che sono state formulate. La prima è come è possibile incrementare l'attività di controllo e questo poi mi consente di fare un ragionamento se possibile più ampio anche se in tempi contenuti quando operano più soggetti istituzionali nelle stesse materie e con funzioni sostanzialmente identiche. In realtà ci sono due metodologie di lavoro, partirei dal settore agroalimentare, per quanto riguarda il settore agroalimentare io credo che è stato molto importante ed è molto importante la cabina di regia che è stata istituita presso il Ministero dell'Agricoltura. Questa cabina di regia di cui facciamo parte insieme anche alle forze di polizia come Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Costiera e lo stesso Ministero, praticamente con cadenza quindicennale individua i settori dove bisogna operare i controlli, facciamo verifiche quindicennali per i controlli che vengono effettuati e vengono sviluppate costantemente le linee di azione su cui poi queste forze congiuntamente possono e devono operare. Quindi per quanto riguarda il settore agroalimentare l'idea dell'istituzione e dell'implementazione di questa cabina di regia è stata decisiva perché le forze istituzionali preposte ai controlli in questo momento operano congiuntamente realizzando risultati certamente non indifferenti. Nelle altre materie in realtà l'Agenzia delle dogane opera sulla base anche di protocolli, in particolare io vorrei qui ricordare il protocollo che è stato stipulato recentemente, qualche mese fa, dal nostro direttore generale con il comandante generale della Guardia di Finanza, protocollo con la Guardia di Finanza in cui sono sviluppati diciamo le metodologie anche operative per effettuare controlli che in genere sono congiunti. Non solo, ma quel protocollo prevede un aggiornamento costante degli incontri tra noi come direzione centrale antifrode e un nucleo della Guardia di Finanza e contemporaneamente prevede altresì una verifica concreta con tutte le direzioni territoriali delle dogane, ovviamente, delle attività in concreto svolte. Questo mi consente di aggiungere un altro tassello nella dinamica dei controlli che l'Agenzia delle dogane sta sviluppando in questo momento. È un tassello decisivo che entrerà in vigore fra non molto a seguito della riorganizzazione dell'Agenzia delle dogane dei monopoli che è in via di approvazione definitiva da parte del MEF. Con questa riorganizzazione, per quanto riguarda specificamente l'organizzazione dell'antifrode, si costituirà una vera e propria rete nazionale antifrode con gli uffici regionali antifrode che avranno competenza per quanto riguardano determinati tipi di reati di maggiore rilevanza sociale e che consentiranno un raccordo più stretto con la direzione centrale antifrode. Questa riorganizzazione determinerà un'implementazione sicuramente delle attività di controllo per la repressione di tutti gli illeciti che si verificano nell'ambito del territorio nazionale. C'è un punto che però voglio sottolineare e che vorrei anche rimettere al dibattito le riflessioni comuni. Il problema dei controlli è un problema che ha anche un altro aspetto. Perché i controlli che vengono effettuati dagli organi istituzionali preposti a cominciare dall'Agenzia delle dogane, talvolta possono in astratto contrastare con l'esigenza della celerità dei traffici commerciali. E questo è un problema che sicuramente è un'oscillazione continua che si verifica anno per anno su determinati prodotti. Faccio un esempio molto concreto. Nel 2023 il dibattito si è concentrato proprio per quanto riguarda l'efficacia dei controlli e contemporaneamente l'efficienza dei traffici in materia di olio di oliva. Premesso che i nostri laboratori sono molto veloci nelle verifiche dei prodotti che vengono fermati per le verifiche necessarie, quindi al massimo si va da 3-4 giorni, salvo in casi eccezionali in cui occorrono verifiche di maggiore spessore si va anche oltre, si è contemporaneamente assistito alla necessità da parte degli operatori nell'ambito di questo settore della necessità di garantire comunque una celerità dei traffici perché ovviamente l'olio d'oliva che noi analizziamo poi deve essere comunque trattato anche ai fini dell'esportazione con i tempi necessari che sono tempi stringenti. Ebbene da questo punto di vista devo dire che noi abbiamo avuto l'accortezza innanzitutto di ascoltare i stakeholders in materia e io vorrei anche ricordare se è possibile che a giugno l'agenzia delle dogane grazie a un'idea del direttore generale svolgerà gli stati generali dell'agenzia delle dogane su determinate materie, materie di accise, tabacchi e dogane proprio aperte a tutti gli stakeholders in cui sostanzialmente non saremmo noi a enunciare o formulare relazioni ma saremmo noi ad ascoltare l'esigenza degli stakeholders. A seguito di questo ascolto e con un'interlocuzione costante che c'è tra la direzione antifrode che io dirigo e la direzione dogane si è pervenuti all'emanazione di una circolare che io si ritiene è opportuno Presidente, nei prossimi giorni posso anche rimetterla perché è significativo della problematica con la quale si è disciplinato l'operatività concreta dei nostri funzionari sulle dogane proprio per cercare di consentire, ed è questo il vero problema che va analizzato e quindi su questo punto poi mi taccio e cioè di consentire controlli efficaci, pregnanti, performanti che sono fondamentali a tutela del made in Italy e dei prodotti italiani e contemporaneamente garantire l'efficienza e anche la tempestività dei commerci estissi. Questo è un nodo che ogni tanto si ripete e che probabilmente necessita anche di una riflessione comune. Questo per il primo punto sulla prima domanda che ci è stata formulata e in parte rispondo già, ho già risposto alla seconda, cioè chi ha formulato quella domanda, cioè sui controlli doganali che avvengono in altri paesi, ha citato ad esempio il porto di Amsterdam e così via, effettivamente ha detto una cosa giusta, perché noi ci troviamo di fronte a questa situazione in cui praticamente ci sono alcune dogane, alcuni porti in cui ci risulta che effettivamente non si realizzano quegli stessi controlli che noi realizziamo. Cioè il paradosso vero di tutta questa disciplina è che noi ragioniamo in termini unionali, ma poi operiamo a livello nazionale nei controlli e operando a livello nazionale ci troviamo in questo paradosso che in realtà l'Italia probabilmente è la nazione che effettua il maggior numero di controlli e probabilmente anche i migliori controlli sui prodotti che vengono importati ed esportati, a fronte di dinamiche assolutamente molto più lassiste che si verificano in altri porti europei. Noi abbiamo dei nostri referenti dell'agenzia delle dogane che lavorano presso questi porti e questi problemi ci sono stati segnalati, quindi io a questa risposta dico sì è vero, è così. Cioè effettivamente c'è un problema di carenza di controlli in determinati porti che determina, perché una volta entrato una merce da un paese extracomunitario entra in qualunque porto dell'Unione doganale, a quel punto c'è la libera commerciabilità, il libero transito in tutti i territori dell'Unione Europea e quindi non ci sono di fatto più controlli. Quindi questo è un problema che probabilmente va risolto a livello europeo e sicuramente è un problema che noi abbiamo constatato e che richiedono degli interventi che noi sollicitiamo, ma capito che vanno fatti sia di accordi con le altre agenzie delle dogane, sia anche a livello governativo. Mi consente questa domanda anche di affrontare e di illustrare un altro aspetto che forse è solo un po' ma è interessante. Perché il problema è che a fronte di una normativa unionale uniforme per tutte le nazioni che fanno parte dell'Unione Europea, in realtà vi sono strutture doganali che sono organizzate in maniera differente per ogni nazione. Faccio un esempio e questo lo lascio perché è molto interessante, la brochure di come è organizzata ad esempio l'agenzia delle dogane in Germania, che è un argomento estremamente interessante. Come potrà vedere il Presidente, ovviamente la lascio a lei, ma poi chiaramente immagino che hanno una struttura e una potenzialità in termini di uomini e donne ovviamente, assolutamente superiore alla nostra. Tanto che l'agenzia delle dogane tedesca addirittura ha una divisione che si occupa di terrorismo, che è qualcosa che sulla completamente dalle nostre competenze. Ed anche l'agenzia delle dogane francese e l'agenzia delle dogane britanniche hanno competenza ad esempio in materia di immigrazione. Noi abbiamo una competenza assolutamente riduttiva in questa materia, diciamo, e solo per quanto riguarda lo smaltimento dei cosiddetti barchini. Perché dico questo? Perché il direttore è stato invitato recentemente a Parigi a partecipare a un'unione di tutti i direttori generali dell'agenzia delle dogane britanniche, francesi e così via, non è potuto andare e abbiamo delegato il nostro direttore territoriale della Sicilia, che è competente per materia ovviamente, pensiamo all'ampidusa e in quella sede ci siamo accorti che effettivamente ci sono delle competenze più ampie rispetto a quello che ha le dogane italiane. Per carità, quelle che abbiamo direi ci bastano in avanzato per le forze che abbiamo, crediamo di svolgere abbastanza bene il nostro compito, ma è significativo che ci sono organizzazioni, organismi, forme organizzative diverse di per ogni nazione con competenze diverse. E anche questo determina poi conflitti di competenza in determinate materie. L'esempio classico è quello appunto dell'immigrazione che facevo. Ecco, io credo che quello che possa servire, che possa uscire anche da questa nostra conversazione, è questa necessità che noi proponiamo di una maggiore omogenizzazione delle organizzazioni e delle normative, anche nazionali, in conformità alle normative unionali. E penso di aver risposto anche alla seconda domanda. Grazie Presidente, grazie agli auditi. Io volevo fare una domanda per quanto riguarda i controlli sulle merci che poi sono qualificati come rifiuti. Da alcune audizioni, ma anche dai fatti recenti che riguardano per esempio l'inchiesta della Procura sui rifiuti campani in Tunisia. Da alcune audizioni emerge chiaramente che c'è questa rotta di rifiuti, di merci qualificata come rifiuti, sia nella rotta balcanica, sia ovviamente poi l'Africa. Su questo, ma per capire proprio come funziona l'agenzia delle dogane, se fa controlli, che tipo di controlli fa e cosa ci può dire con riguardo a questa nuova tratta verso i Balcani e verso l'Africa. Grazie. Cogliamo un attimo anche Borrelli. Onorevole Borrelli, ci sente? Io mi sento Presidente. Ok, ti sentiamo. Ok, perfetto. Presidente, volevo chiedere al rappresentante dell'agenzia delle dogane, se ho capito bene, perché potrei aver capito male, lui ha detto che l'agenzia delle dogane in Italia ha un livello molto basso di corruzione, di problemi di questo tipo, o ho capito male io? Perché a seconda della risposta facevo una seconda domanda. non penso di aver parlato di corruzione, non penso di aver parlato di livelli di corruzione. Ah, ok, quindi ho capito male. Secondo me, sì. Ti ha detto che l'agenzia delle dogane... Parlavo di competenze, competenze. Ah, solo competenze. Competenze per materia. Ok, ok, perfetto, perfetto. Va bene. Volevo soltanto aggiungere una cosa, ovviamente una domanda. Volevo chiedere sulla contraffazione sull'ingresso, probabilmente non l'ho sentito, l'avrà già detto, di materiali contraffatti che riescono a superare tranquillamente, diciamo, la nostra dogana. Se ci hanno dei numeri approssimativi, oltre a quello che leggiamo ovviamente sulla stampa, è una percentuale. Grazie. Grazie Borrelli. Prego. Per quanto riguarda... Allora, voglio fare una premessa. Noi questa mattina abbiamo trasmesso al segretario della Commissione, quindi al Presidente, non solo la relazione del Direttore Generale, ma anche delle schede, 26 pagine di schede, che comprendono tutti i numeri che probabilmente soddisferanno anche l'onorevole Borrelli per quanto riguarda le percentuali che chiedeva in materia. E abbiamo anche trasmesso un terzo documento, che è proprio del mio ufficio, dell'ufficio, cioè Direzione Nazionale, Antimafia, DDA e Ufficio Ippo, con le indicazioni delle attività di carattere che abbiamo svolto, soprattutto insieme ai ROS, dal 2014 in poi fino all'attualità, sul contrasto nei confronti della criminalità organizzata in questo settore. Sono dati che ovviamente abbiamo reso, diciamo, leggibili, disponibili, non sono indicati ovviamente, specialmente per le attività che abbiamo svolto e che stiamo svolgendo dal 2022 in poi, non possiamo dare indicazioni più specifiche, perché altrimenti se venisse fatta una richiesta del genere, pure possibile, ovviamente chiederemmo la segretazione poi delle risposte. Però quel documento, per come l'abbiamo formulato e per come l'abbiamo costruito, è assolutamente disponibile, tant'è che già l'abbiamo depositato. Allora, per quanto riguarda il discorso del traffico dei rifiuti verso non solo la Tunisia, in realtà esiste un traffico dei rifiuti non solo nei confronti di paesi africani, ma anche di paesi balcanici. E poi vi è un tipo particolare di traffico di rifiuti che è stato soprattutto intercettato dalla nostra direzione territoriale della Liguria, che sono i traffici di rifiuti effettuati da soggetti pakistani residenti nel territorio italiano verso il Pakistan, di prodotti che noi riteniamo che sono rifiuti e che effettivamente sono rifiuti e che si ritiene invece che in Pakistan possono essere utilizzati. Noi operiamo in questa maniera. Sostanzialmente l'attività che facciamo è un'attività, come è stato anche precedentemente accennato, sempre più di natura predittiva. Noi analizziamo i dati che ci vengono forniti dai nostri uffici doganali sul territorio, sono analisi ed elementi di natura oggettiva e soggettiva. Oggettiva che riguardano l'oggetto del trasporto e soggettiva ovviamente i soggetti che procedono all'esportare o importare determinati elementi. Questi elementi fanno parte di quel meccanismo che noi definiamo come analisi del rischio. Questi elementi vengono inseriti sia nel circuito doganale di controllo, sia soprattutto nella banca dati antifrode che di competenza di questa direzione. Sulla base di questi elementi, cioè degli elementi che noi acquisiamo, sia sotto il profilo soggettivo, ripeto che sotto il profilo oggettivo, diamo immediato riscontro a tutte le direzioni territoriali e a tutte le unità operative che ci sono sul territorio se determinati prodotti o determinati soggetti stanno effettuando attività di import ed export che sono stati da noi attenzionati. Questo determina a questo punto l'intervento, dovrebbe determinare in astratto ma anche in concreto l'intervento dei nostri funzionari procedendo a quella che viene chiamata la visita fisica del prodotto per verificare se sia conforme e quindi possa essere esportato oppure no. Però effettivamente stiamo cercando di implementare sempre di più questa attività, stiamo cercando di implementarla come diceva anche prima il direttore dell'agenzia sviluppando il meccanismo dell'intelligenza artificiale. Noi per primi come direzione antifrode abbiamo costituito un gruppo di lavoro che è composto da funzionari dirigenti non solo a livello centrale ma anche a livello locale che si sta concentrando esclusivamente sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per implementare queste forme di controllo sul territorio. No, giusto per... volevo soltanto due domande, sotto diciamo domande rispetto... Quindi il controllo fisico, cioè proprio quello materiale, avviene soltanto dopo il controllo soggettivo-oggettivo incrociato qualora ci dovesse essere... Sì, normalmente proprio per quel discorso che facevo prima, cioè praticamente il discorso dei controlli e della celerità dei traffici, con la cosiddetta visita fisica, diciamo, è solo e ormai costituisce un'eccezione, diciamo, rispetto al controllo documentale. E su questo, Presidente, poi riterrà opportuno se segretare la seduta, volevo chiedere se con riguardo all'inchiesta dei rifiuti in Tunisia c'è stato un controllo fisico, risulta che l'agenzia in quei casi lì, su quei rifiuti lì, abbia fatto dei controlli fisici. Sinceramente no, a me non risulterrebbe, non ne sono a conoscenza, ecco, questo voglio dire, poi non sono stati fatti, ecco, non risultano. Io penso che questa è stata una prima audizione conoscitiva, poi noi abbiamo diversi fiori di inchiesta, dove effettivamente adesso vedremo anche la relazione che ci è stata inviata, che ve la forniremo, così ci potremo approfondire, potremmo avere un'interazione successiva, perché noi abbiamo alcuni fiori di inchiesta che prevengono determinati numeri, che sono necessari poi anche i magistrati che collaborano nei vari fiori di inchiesta per poter approfondirli. Quindi direi che questo è un passaggio intermedio, poi nello specifico e dopo lì andremo magari, faremo una nuova audizione con chi nello specifico magari si è occupato proprio di quell'inchiesta, quindi anche proprio chi è sul campo e lo verificheremo, anche perché nella discussione dei documenti noi siamo spaventati per due motivi. Il primo perché da alcune audizioni alcuni procuratori ci hanno riferito che a volte trovare un carico di rifiuti è come trovare una con un pagliaio, perché naturalmente quando è all'interno di un container, di una nave container che ce ne sono 8 mila, non è fattibile fare aprire i container e spesso e volentieri la documentazione non corrisponde al rifiuto, ma da parte delle forze dell'ordine, quindi non voglio nello specifico, non c'è la conoscenza, il bagaglio culturale o la preparazione per capire se quello documento corrisponde a quello che è il materiale che è all'interno di un cambio, perché poi le coballe è facile, non è così semplice distinguerle, quindi ecco c'è proprio a livello tecnico, quindi su questo secondo me dovremo approfondire parecchio perché nei porti i porti sostanzialmente avremo delle inchieste specifiche, quindi penso che questa sia più conoscitiva e nello specifico andrei in un secondo momento quando il filone, prego prego A chiusura soltanto volevo dire una cosa di integrazione di quello che il Consigliere Gallo che peraltro è un magistrato ordinario, per essere d'accordo, ha detto con riferimento alle domande poste, quando ha fatto cenno in modo molto interessante e in chiave comparatistica alla eterogeneità delle competenze delle varie autorità doganali all'interno del circuito tra virgolette dell'Unione Europea, dovete sapere, ma forse lo sapete, che c'è un dibattito serrato sulla necessità di andare in direzione della istituzione di un'unica autorità doganale a livello europeo, che significa poi ottenere un'unica procedura dei rischi, un'unica autorità centrale dei rischi che risolverebbe molti problemi in chiave poi di applicazione delle varie discipline doganali. Mi auguro che dopo le elezioni europee e ovviamente questo dibattito che trova ancora un po' di resistenza da parte di qualche importante paese europeo possa essere ripreso e andare nella direzione di approvare una proposta che già c'è, che è sul tavolo della Commissione, di modifica dell'attuale codice dell'Unione Europea per appunto far nascere questo importante organismo unico che risolverebbe tantissimi problemi di applicazione della disciplina e questo ovviamente significherebbe poi anche un'omogeneità sostanziale delle competenze delle varie autorità doganali, chiudo, è vero, con il Consiglio di Gallo che effettivamente hanno compiti molto molto diversi fra di loro. Grazie. Vi ringrazio, specifico anche questo, per la prima volta questa Commissione ha allargato le sue competenze. Prima riguardava i suoi rifiuti, oggi è anche tutto il tema dell'agrumentare, Made in Italy, tutto il tema del marchio. Secondo me è necessario confrontarsi perché noi apriamo un tavolo anche appunto sui marchi, sui prodotti che arrivano dall'estero e mi sembra ci sia una norma europea, come un progetto di legge europeo che sta facendo partire una situazione di categoria legata agli agricoltori che riguarda proprio nel nocciolo, il cuore, il codice doganale. Quindi nello specifico noi apriamo un filone su questo e magari chiederemo anche una vostra collaborazione diretta, anche naturalmente non di voi, ma magari di uno dei vostri tecnici uomini per poter approfondire questo tema. Noi facciamo attività sia di ispezione che di inchiesta, ma soprattutto vogliamo fare anche di ricerca e di proposta normativa. Quindi laddove ci siano suggerimenti da noi siamo molto ben accolti. Tutto qua. Grazie per la disponibilità.